Siamo? Sì! Lo stiamo gli eletti? Sì! Con il cuore? Sì! Con il mio saluto! Sembrerebbe una qualsiasi squadra di rugby, invece i bisonti non sono giocatori come tutti gli altri. I loro allenamenti e le loro partite si svolgono tra quattro mura, quelle del cortile del carcere di Frosinone. E così, nell'ora d'aria, ecco concentrati tutti gli esercizi di una giornata, fondo, potenziamento, lezioni di tecnica e tattica. Ma da dove è origine l'idea dei bisonti? Il nostro progetto, questo nello specifico, nasce da una collaborazione della nostra associazione, che è l'associazione Gruppo Idee, e l'ASI, che è un ente di promozione sportiva, l'Alleanza Sportiva Italiana. Per cui ci siamo messi insieme e da qui è nato questo progetto sportivo nello specifico. In un momento in cui l'attenzione è puntata sulla drammatica situazione delle carceri, iniziative come questa possono essere un'occasione concreta e un modo efficace per ripensare la condizione dei detenuti. Un modo, insomma, per riavvicinarli alla quotidianità. Entusiasmo travolgente che ha spinto questi ragazzi ad intraprendere una nuova sfida. I ragazzi si sono selezionati da soli, per cui hanno scelto loro di partecipare. E' stata anche una decisione abbastanza importante, insomma. Hanno aderito subito con un grandissimo entusiasmo e, insomma, sono degli atleti, diciamo. Insomma, ci credono molto, si impegnano tantissimo e ce la stanno mettendo tutta. E alla fine di ogni gara, tutti al terzo tempo, senza pensare al risultato, perché nello sport si sa, l'importante è partecipare. Finora abbiamo perso i punti, ma sul terzo tempo abbiamo vinto, perché al terzo tempo lo preparano prevalentemente i ragazzi, perché ci tengono tantissimo e sono veramente eccezionali, fanno delle cose speciali. Magari non diventeranno dei grandi campioni come gli All Blacks, ma il rugby aiuterà i bisonti a sentirsi un po' meno esclusi.